Lavorare è troppo duro per voi? Non è troppo duro, per voi. Per voi? Per voi. Voi andate in Africa, c'è mille anni e 90, rubate i soldi di noi e le nonno. Noi vengono per prendere, per portare in Africa. Noi sempre prendere i soldi e portateli in Africa. Rompicorio di voi, pace e gioia. Perché adesso solo per l'Europa e per l'Africano, non per voi. Voi mi dispiace, è veramente sempre rimasto indietro, noi rimasto più amici. Sai che noi, insomma, vogliamo tirare i soldi? Davvero, davvero, perché voi non ne capisco niente. Voi mi chiedere i peccati, non hai i soldi, non hai i soldi, non hai i soldi. E noi, chi giura, io sono sempre felice, un bel caso, una ragazza d'Italia, allora mi dà i nostri soldi. Vabbè? Allora non ti lamentare che, visto che sei bravo a lavorare, non ti lamentare. Però allora, è una ragazza d'Italia, prende i soldi di voi, è separato, presto i soldi di voi, è dato di noi. E noi l'ho portato in Africa. E noi l'ho portato in Italia. non è ignorante, non andate avanti mai, vuoi sempre rimasco nervoso, non fate lei la fine, c'è rimasto lei e indietro, quindi è Bergamasco, è Bergamasco figlio di puttana, non esiste. Come è Bergamasco figlio di puttana? Salta giù, io cari Re Bambi, salta giù, Re Bambi.